Impari è una piattaforma italiana, un ambiente di apprendimento accattivante e facilmente fruibile per creare e condividere risorse digitali. Posso realizzare mappe, presentazioni, libri e altro. Gli strumenti sono semplici, i prodotti realizzati possono essere condivisi e adattati alle proprie esigenze. Una piattaforma orizzontale partecipata totalmente cloud, basata su formati aperti e non proprietari, pertanto non necessita di installazione di plugin. I materiali prodotti inoltre sono visibili da tutti i sistemi operativi e dai vari device. Vediamo come funziona. Questa è la pagina della piattaforma. Se io scorro con il mouse ho anche la descrizione delle sue caratteristiche principali. Entriamo dopo aver effettuato la registrazione. Si entra nella nostra pagina principale. Qui ancora non ci sono delle attività, ma qui a sinistra ho il mio profilo, eventualmente le classi che posso creare e i miei file. Le caratteristiche generali di questa piattaforma saranno analizzate in un ulteriore video. In questo analizziamo un oggetto didattico e per la precisione le presentazioni. Infatti, se mi avvicino con il mouse su Crea, vedete quanti sono tutti gli strumenti che posso utilizzare in questa piattaforma veramente ricca. Andiamo sulle Rock Slide. L'interfaccia che mi si presenta è molto simile a quella del PowerPoint o del Prizy, dove ho sulla sinistra le miniature delle diapositive e sulla destra l'ambiente in cui si lavora. Questa è la prima diapositiva, quindi io posso per esempio inserire un testo. Faccio un doppio clic, scrivo quello che mi occorre e questa casella di testo può essere editata in diverso modo, modificata, posso cambiare l'orientamento e anche in qualche modo l'aspetto. Inseriamo in questa prima nostra diapositiva anche un'immagine. Prendiamo per esempio dall'archivio del nostro computer, ma possiamo anche indicare un indirizzo. E la inseriamo. Anche l'immagine può essere ovviamente modificata, posso cambiarne la grandezza, l'orientamento e così via. Creiamo una seconda diapositiva. Questa seconda diapositiva mettiamo un'ulteriore immagine, sempre presa dal mio computer. E proviamo per esempio a cambiare lo sfondo. Lo sfondo può essere cambiato di tutte le diapositive oppure soltanto da quella selezionata. Quindi vedete, c'è subito l'anteprima, posso inserire per esempio questo sfondo. Inseriamo una terza diapositiva, io posso inserire delle forme, anche queste possono essere modificate, posso cambiare il colore. Se prendo questo pallino e lo porto in giro per il riquadro, si può vedere che cambia il colore anche della forma. E poi lo posso ingrandire e così via. Posso inserire, mettiamo un'altra diapositiva, anche dei video oppure degli indirizzi ai sito web. Proviamo per esempio qui a inserire l'indirizzo di questo sito. Appare subito l'anteprima e poi, anche questo lo posso ridimensionare, avrò il sito che io ho selezionato nella mia ulteriore diapositiva. Bene, a questo punto voglio vedere l'anteprima. Con visione ho tutte le transizioni possibili, per esempio questa oppure quella più classica ma anche a forma di cubo. Allora, proviamo a esaminarne qualcuna. Vediamo la prima. La mia presentazione si presenta in questo modo, quindi con delle transizioni che vanno da una all'altra con questa caratteristica. Adesso proviamo a vederne un'altra, per esempio questa. Guardiamo sempre l'anteprima, facciamo caricare. Ecco, qui ho una sorta di transizione con questo effetto così, diciamo un po' di trasparenza. Chiudiamo anche quest'anteprima, ne guardiamo un'ultima, per esempio questo del cubo. E infatti, come si può vedere, la mia presentazione è questa. Ora, però, se io vado nell'impress e sempre nella visione, ho la possibilità di modificare ulteriormente la presentazione, utilizzando, per esempio, questi comandi che mi consentono non solo di spostare le diapositive, magari anche mettendole in un ordine diverso, ma anche spostandole, perché qui ho proprio gli assi cartesiani, per cui le posso spostare in vario modo, posso spostare per esempio così e così via, anche in questo modo. Vediamo cosa succede se io vado nell'anteprima. Questa è la mia prima diapositiva, questa è la seconda, che quindi appare con questi effetti particolari. Bene, diciamo che la mia presentazione è finita, quindi io adesso la salvo, le do un titolo qualsiasi, parole chiave, disciplina, la rendo pubblica e appunto la salvo. La presentazione viene salvata in piattaforma e infatti la trovo qui. Se clicco su Continua, ritorno alla mia presentazione e andando giù posso recuperare il codice per incorporare questa presentazione nel sito o il link diretto. Andando ancora più giù ho degli strumenti che posso usare per la LIM. Bene, adesso chiudiamo questa sezione, qui sono di nuovo nella mia pagina principale, clicco su Home ed ecco qui la mia presentazione salvata. Questa può essere condivisa, quindi io posso per esempio indicare il nome dell'utente, che potrebbe essere un mio alunno, oppure scegliere una classe. E con questo è tutto, arrivederci!